Allora Sindaco, una richiesta anche di unità non solo con i cittadini ma anche con tutte le altre forze per un obiettivo comune, quello di far restare in mano all'amministrazione comunale la Badia di Soffena. Certo, perché la popolazione vedrebbe innanzitutto un'espropriazione all'utilità pubblica, alla frequentazione. La gente viene alla Badia a passeggio con i bambini e talvolta i tempi di apertura sono limitati e la Badia a riappropriarsi della Badia è un fatto essenziale per la popolazione di tutto il territorio comunale perché la Badia deve diventare il cuore pulsante culturale di tutto il territorio. E quindi l'appello, l'abbiamo fatto in Consiglio Comunale, per ora non abbiamo avuto delle risposte positive però a tutta la popolazione, ma a tutte le forze politiche, a tutte le realtà sociali che vorremmo anche necessariamente coinvolgere perché questa iniziativa sia un'iniziativa di popolo, sia un'iniziativa condivisa, sia un'iniziativa che nasce proprio dal cuore della gente, del nostro comune che ha veramente la voglia di sentire veramente propria, ecco pulsante con la propria vita, la Badia.